Ingredienti Dosi per 4 persone 350 grammi di riso 1 litro di brodo 70 grammi di burro 4 cucchiai d'olio 60 grammi di parmigiano grattugiato 1 cipolla 100 grammi di burro 2 grammi di prosciutto crudo Marsala Preparazione Rosolare in olio e burro la cipolla affettata Il prosciutto a dadini e spruzzare di marsala Unire il riso Lasciarlo tostare e portarlo a cottura unendo il brodo poco alla volta Alla fine mantecare con burro e parmigiano Il piatto è pronto Buon appetito!